Dopo la robuante vittoria per 4-1 contro la Vibonese, la Tourist di Mister Caneo si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva allo stadio Massimino di Catania. I corallini in questi inizi di stagione si sono rivelati essere squadra alla trasferta, infatti i sette punti in classifica sono stati ottenuti tutti lontano da Torre del Greco, con un pareggio e due vittorie sulle tre partite disputate. La trasferta siciliana, posticipo di questo turno infrasettimanale del girone C di Serie C, vede il rientro tra i pali del titolare Perina, assente per squalifica a Vibo Valencia, mentre potrebbe esserci riposo per Leonetti. I rossazzurri padroni di casa, allenati dall'ex Napoli Baldini, sono invece impelagati nei bassi fondi della classifica e il pari esterno nell'ultimo turno contro il Catanzaro non ha modificato la posizione degli etnei, che si presentano al cospetto dei corallini con diverse assenze. Un risultato positivo proietterebbe la Tourist tra le grandi del girone sulla falsa riga dall'inizio della scorsa stagione, in attesa di un cambio di rotta nelle partite a Liguori. Il fischio d'inizio è previsto alle 14.30 con diretta via streaming e sulla TV satellitare.